Ed ecco le azioni, un primo tempo quasi di studio, non proprio entusiasmante, vediamo qui un aterramento di Pasquilli e quindi il calcio di punizione in favore del Lecce, ecco Terraneo e questa è l'azione dalla quale parte poi quella che determinerà il rigore in favore del Lecce, ecco Pasquilli con la palla, sbilanciato appena entro l'area, cade a terra, calcio di rigore che viene trasformato da Barbas, è l'1-0 per il Lecce, un bel gol e si profila quindi una bella vittoria, la reazione della Lazio, vediamo sulla destra, si dipende il Lecce, un tiro molto alto dei laziali, ancora la Lazio con Poli che entra in area, passa la palla al centro, ancora una rispinta della difesa leccese che riparte in contropiede, ecco questo bel lancio sulla sinistra per Tacchi, Tacchi si libera dell'avversario, entra in area, evita l'uscita di Terraneo e quindi segna un bellissimo gol, è il gol del 2-0. Grazie a tutti!